Musica Giorgia torna sul palco col suo Blue Live in tour nei teatri lirici, continuerà poi in autunno nei Palasport, Margherita Ferrandino. Tornare live dopo questi anni in cui sono stata un po' lontana dal pubblico è un'emozione enorme, soprattutto sembra la prima volta e sentire quasi il respiro del pubblico è veramente un regalo. La musica, l'arte e il respiro del pubblico. Giorgia ritorna sui palchi dei più prestigiosi teatri lirici d'Italia con il tour Blue Live, un viaggio nella musica di un artista che trasforma le sue emozioni in canzoni, dando voce anche a tematiche sociali e ambientali condivise con Elisa, che per lei ha scritto il brano senza confini. Argomenti in cui lei e io crediamo profondamente. Bisogna nutrirsi di una visione di speranza, una visione di ottimismo, perché altrimenti molliamo la spugna, non si gettiamo la spugna, non si deve fare, soprattutto per chi viene dopo di noi. Metti caso che uno, ora no, non è così, ma metti caso che uno veramente poi rinasce e torna qua, troveremo un pianeta allo sbando, quindi conviene darci da fare adesso. Adesso ho imparato a dire questa cosa, perché uno non è, ma metti che è. Trapp... Trapp...